ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video quando abbiamo a che fare con la pulizia della nostra cucina sappiamo benissimo quando iniziamo ma mai quando andremo a finire questo perché dovremmo dedicarci alla pulizia di tutti i suoi componenti e oggi noi di mamma style vi sveleremo un rimedio del tutto naturale per la pulizia del vostro microonde nonostante le sue dimensioni ridotte anche pulire il microonde non è una cosa molto facile più faremo passare dei giorni più lo sporco aumenterà e di conseguenza perderemo davvero tanto tempo per renderlo almeno passabile vediamo insieme intermedio dovete utilizzare una ciotola adatta al microonde poi ci serve il succo di limone acqua e panno in microfibra per prima cosa prendete il limone e spremetelo all'interno della ciotola poi a questo punto unite l'acqua adesso sistemate il tutto nel microonde e azionatelo alla massima temperatura per un paio di minuti una volta spento senza scottarvi togliete la ciotola dal microonde prendete il panno in microfibra inumidito e passatelo sulle pareti e vedrete da subito come tutto lo sporco sarà stato eliminato e vedrete da subito Il potere del potere Il vapore associato a quello sgrassante del limone vi avranno fatto ottenere un risultato incredibile, un profumo unico. Questo è un trucchetto davvero facilissimo che senza farvi spendere nemmeno un euro e senza usare nulla di chimico avrà reso il vostro microonde perfettamente pulito ed igienizzato. Come sempre, se ti va, lascia un like, iscriviti al nostro canale e per tantissime altre curiosità visita il nostro sito www.mammastight.it Come sempre, se ti va, lascia un like.